Prima il covid, poi gli effetti della guerra, ma ora il turismo a Fano prova finalmente a rialzare la testa. Dopo un inverno complicato tra restrizioni e incertezze, i primi timidi segnali sono arrivati grazie ai ponti di 25 aprile e primo maggio, in parte limitati da previsioni meteo poco confortanti, ma è a partire da questo weekend che si comincia davvero a cambiare marcia. Noi il 99% stanno aprendo tutti perché a Fano in questo periodo, proprio in questa settimana, la possiamo Fano città dello sport perché abbiamo tantissimi, tantissimi eventi, dalla Colle Marathon al Paracadutismo, campionato italiano, al tiro a volo, poi di riflesso abbiamo anche gli alpini che vengono qui a Fano, che sono in raduno a Rimini. E quello che ribadisco sempre è che il turismo sportivo è quella marcia in più per riempire i nostri alberghi, ma non solo gli alberghi, fare anche un'ottima promozione perché chi viene qui per i motivi di eventi sportivi riesce a vedere un territorio che è veramente bello. Una città che è sicuramente in fermento nel post pandemia, ma questo volevamo, questo stiamo progettando anche insieme al tavolo economico, ovviamente stiamo cercando di destagionalizzare il rapporto con le associazioni sportive della nostra città, sta veramente funzionando, infatti in questi due mesi abbiamo veramente avuto una serie di manifestazioni che hanno spinto il turismo sportivo, hanno fatto lavorare le strutture turistiche della nostra città, tra l'altro con alcuni hotel che hanno aperto apposta, questo è un segnale positivo perché devo dire non era mai successo negli ultimi anni. La formula del last minute sembra essere ancora quella prediletta, le prenotazioni soprattutto attraverso le piattaforme online. Tutto questo in vista della vera cartina torna sole, la stagione estiva che lascia ben sperare nonostante la probabile carenza di turisti stranieri, al netto però di alcuni tedeschi, francesi e olandesi. Il mercato italiano ancora è quello che tiene, il discorso del turismo estero anche col fatto della guerra ci ha penalizzato molto. Sto parlando con degli operatori da Gabice fino a qua giù al Cesano e ancora non c'è quel sentore del turismo straniero, ma il turismo nazionale e naturalmente i nostri borghi stanno conquistando quasi tutta l'Italia, anche l'estero. Abbiamo avuto anche dei signori svizzeri che stanno acquistando appartamenti nelle nostre zone perché le nostre zone sono sempre al primo posto. L'entroterra, i borghi e il mare naturalmente ne fa da padrone. Ci aspettiamo di vivere una stagione bella, interessante, piena, tra l'altro i dati e le prospettive sono molto interessanti, anche se avremo un turismo di prossimità, quindi per lo più italiano, ancora i turisti stranieri fanno fatica a muoversi, ma gli italiani sicuramente stanno prendendo il nostro territorio di riferimento come un territorio rilassante, tranquillo, un territorio dove poter veramente rilassarsi un attimo dopo il periodo lavorativo. 2023 sarà invece un anno di ripartenza del turismo straniero e degli italiani che torneranno all'estero. Speriamo di poter trattenere qualche italiano facendogli vedere le nostre bellezze. Grandi prospettive dunque, soprattutto nel lungo periodo. Intanto però bisogna fare i conti con un altro grande scoglio, l'impennata delle bollette che incide tantissimo sui bilanci di alberghi e locali. Sono quasi raddoppiate, quasi raddoppiate. Uno che pagava 1.000 euro adesso paga 2.000 euro al mese, perché noi abbiamo le bollette mensilmente, non bimestre. Veramente. Io chiedo anche ai comuni sul fatto della Tari di avere un occhio di riguardo, perché veramente ci stanno penalizzando. E se non si fa qualcosa sulle accise o naturalmente anche contributi a livello turistico su queste cose, per noi ci penalizzano molto. E la concorrenza del mercato estero, e qui ribadisco, quando riapriranno le frontiere alla grande, allora hanno dei prezzi molto competitivi con noi, nel senso che con dei prezzi molto bassi e noi non possiamo avere quel tipo di prezzo lì, bensì che diamo degli ottimi servizi. Noi puntiamo molto sul servizio e sulla qualità.